Buongiorno a tutti, bentrovati, come state? Continuiamo con il nostro percorso dedicato a Michelangelo Bonarroti per la mia serie Le Grandi Monografie vi ricordo sempre un po' quello che abbiamo fatto fino adesso quindi la prima parte del nostro corso dedicato alla scultura e la seconda parte è dedicata invece alla pittura di Michelangelo Bonarroti l'altra volta abbiamo trattato il Tondodoni per quanto riguarda la pittura di Michelangelo e oggi ci addentriamo sempre nella sua potenza di pittura nell'opera forse più famosa al mondo la sua realizzazione più immensa che è la volta della Cappella Sistina e la Cappella Sistina ovviamente non potrò parlarvi di tutto oggi sapete che ho deciso in questo percorso online di concentrarmi su alcune tematiche per poi magari, non vedo l'ora, riusciremo a approfondirlo di persona oggi però vorrei parlarvi del giudizio universale perché la volta della Cappella Sistina Michelangelo l'ha realizzata tra il 1508 e il 1512 è stata la sua prima grande opera in pittura tanto che Michelangelo non voleva neanche realizzarla perché lui non si sentiva pittore, si sentiva scultore invece poi torna nella Cappella Sistina tra il 1535 e il 1541 per realizzare il giudizio universale vedete qua intanto alcune immagini meravigliose della volta della Cappella Sistina ovviamente sapete che siamo ai Musei Vaticani di Roma il giudizio universale come vi ho detto l'ha realizzato tra il 1535 e il 1541 quindi circa 30 anni dopo la volta della Cappella Sistina e l'ha realizzato che aveva circa 60-65 anni Michelangelo anche qui lavora totalmente da solo non vuole che nessuno veda la sua opera ma soprattutto è cambiato il mondo è cambiato il mondo dalla volta della Cappella Sistina al giudizio universale sta accadendo qualcosa di importante nel 1517 sono state esposte le tesi del protestantesimo di Lutero e iniziano a esserci dei dubbi a instagliarsi, a radicarsi dei dubbi nell'essere umano e soprattutto negli esseri umani con una religiosità, con una spiritualità così tormentata e soprattutto negli esseri umani artisti perché gli artisti dovevano rappresentare con la loro arte appunto nella forma pittorica, scultoria la loro emotività rappresentavano la loro emotività e anche i loro tormenti Michelangelo aveva una spiritualità molto complessa si sa che era omosessuale ma non riusciva in qualche modo a esprimere questa sua omosessualità anche proprio per un fortissimo senso di colpa religioso e questo suo senso di colpa lo si percepisce non solo per l'omosessualità ma in generale nei confronti di Dio tantissimo nei suoi scritti, nelle sue poesie immaginatevi che cosa le tesi protestanti potevano portare di dubbi, di confronto, di scontro emotivo in un uomo come Michelangelo l'abbiamo visto, l'abbiamo imparato a conoscerlo nelle sue sculture nella sua prima forma d'arte e anche nella pittura porterà lo stesso tormento la stessa lotta la stessa battaglia intima, personale e profonda ma anche sociale allora il giudizio universale è un'opera immensa mi spiace che non la vediate qui benissimo ma comunque nessuna immagine nessuna fotografia potrà mai renderle giustizia è un'opera che ancora adesso la Cappella Sistina accoglie persone da tutto il mondo è qualcosa di sconvolgente ed è qualcosa di sconvolgente soprattutto se pensiamo a qual era l'iconografia del giudizio fino a prima di quel momento se pensiamo ai giudizi universali di Beato Angelico e di tanti altri generalmente la struttura del giudizio universale era molto tradizionale molto rigorosa quindi Cristo al centro a destra i beati a sinistra i dannati sotto le anime che si liberavano nel giorno del giudizio in una visione molto rigorosa molto rassicurante anche in un certo caso in un certo senso una visione chiara definita una visione che dava una risposta all'essere umano una risposta cattolica quindi se fai del bene tu andrà in paradiso se fai del mare andrà all'inferno con tante citazioni ovviamente di Dante Alighieri del racconto della Divina Commedia dell'inferno in particolare Michelangelo cosa fa? per prima cosa immaginate che realizza quest'opera da solo per 4 anni a circa 65 anni quindi era anche anziano era affaticato eppure vuole gestire quest'opera da solo e soprattutto non vuole che nessuno la veda prima della sua realizzazione stessa cosa che in realtà era già accaduta con la volta della Cappella Sistina era molto solitario Michelangelo nel suo lavoro aveva il terrore che qualcuno lo copiasse vi ho raccontato poi nel mio video dedicato a Raffaello Sanzio che vi invito a vedere sempre sul mio canale YouTube Raffaello si pensa c'è la leggenda che Raffaello riesca ad entrare di nascosto perché Bramante gli diede di nascosto le chiavi di notte riuscì a entrare nella Cappella Sistina e osservare la bellezza e la rivoluzione degli ignudi Michelangelo nella volta ma non solo gli ignudi ma proprio i profeti le sibille i movimenti la struttura scultore in pittura che rivoluzionerà anche la pittura stessa di Raffaello Sanzio anche qui quindi Michelangelo vuole lavorare da solo e questa storia questi aneddoti sui lavori lenti per i grandi geni del rinascimento sono ormai leggende famosissime si dice la stessa cosa su Leonardo da Vinci qui per il Cenacolo Milano insomma erano pensatori tipico del ragionamento del ruolo dell'artista nel rinascimento che era un artista totale che aveva una cultura totale generale non era un manovalante non era semplicemente un artista che lavorava di mano di fisico di corpo era un pensatore un filosofo un intellettuale un poeta e sono famose anche le lettere scritte in questi anni alla colonna alla vittoria colonna proprio ragionando sul valore sulla rivoluzione del pensiero protestante allora le critiche dei protestanti nei confronti della chiesa cattolica erano molte quindi la ricchezza estrema della chiesa la vita dissoluta dei preti dei sacerdoti del clero in generale la vendita delle indulgenze quindi questo giro terribile di soldi per accaparrarsi per vincere la santità e quindi il paradiso ma poi un elemento fondamentale che portò un terremoto nell'essere umano e nell'artista Michelangelo in particolare in quest'opera che è la giustificazione per fede per i protestanti non c'è una anticipazione del giudizio ovvero non si può dire che se fai del bene vai in paradiso e se fai del male vai all'inferno il giudizio implacabile imprevedibile è solo di Cristo è solo di Dio nel giorno ultimo e nessuno si può sentire sicuro e questo elemento la giustificazione per fede questo dramma questa paura è rappresentata nel giudizio universale Michelangelo in metri e metri di affresco rappresenta il dubbio che la cultura che il pensiero che le tesi del protestantesimo avevano instillato nell'essere umano e che facevano piano piano in realtà allontanare molti credenti dal pensiero cattolico e che facevano tremare la chiesa cattolica in primis quando Michelangelo espone quest'opera la rende pubblica agli uomini di chiesa arriva il vero terremoto perché? perché in quest'opera non c'è niente di rassicurante Michelangelo non rappresenta per la prima volta nella storia nella storia della pittura nella storia dell'iconografia del giudizio universale Michelangelo non rappresenta i salvi sembra che nessuno sia salvo sembra che siano tutti dannati non c'è una chiara divisione tra salvi e dannati non c'è una vera rappresentazione di almeno un balsamo per l'anima una rassicurazione quella rassicurazione che dava e su cui si fondava in realtà molto del mercato delle indulgenze della chiesa cattolica quell'idea di dire se tu fai il bene e se ti confessi e se ti pulisci dei tuoi peccati vai in paradiso questa idea nel giudizio universale di Michelangelo Bonarrotti non c'è c'è solo una tempesta c'è la perdita del punto di fuga non c'è una struttura lineare non c'è una struttura simmetrica non c'è una struttura equilibrata ci sono corpi in una tormenta in una tempesta in un vortice sono corpi che lottano sono corpi ignudi e attenzione in tutti i giudizi universali c'erano sempre stati rappresentati i corpi nudi perché l'anima è nuda di fronte a Dio però questo elemento dei nudi Michelangeleschi fu l'elemento a cui gli uomini di chiesa si attaccarono è un'opera terribile vergognosa e allora iniziano a dire a prendere Daniela Volterra che vi ho già citato nelle altre lezioni un artista bravissimo che passerà la storia poverino come l'imbragatore perché coprirà alcuni ignudi di Michelangelo di quest'opera con dei piccoli perizomi con dei panneggi guardate qua ad esempio c'è l'esempio di San Pietro qui con questo velo che lo copre ma tantissimi esempi tantissimi tantissimi personaggi di questo giudizio iniziano a essere coperti perché gli ignudi di Michelangelo erano una vergogna ma era solo un pretesto tutto questo perché gli uomini di chiesa gli uomini della chiesa cattolica già spaventati da queste tesi protestanti che arrivavano non a caso vi ho detto che il rinascimento si fa finire nella storia dell'arte al 1520 con la morte di Raffaello Sanzio perché nel 1517 erano già iniziate a essere esposte erano già state esposte le tesi protestanti e questo ha portato un terremoto nell'uomo nella chiesa nella società dell'epoca e vi ho già detto nella lezione di Raffaello che Raffaello aveva già iniziato a rappresentare nelle sue opere questo terremoto questa perdita del punto di fuga pensate all'incendio di Borgo proprio nelle stanze vaticane nei musei vaticani o alla sua trasfigurazione una perdita del punto di fuga al caos i corpi esagerati tutto quello è già quello che sarà il manierismo e quella che sarà la grande crisi della chiesa cattolica ci sarà il concilio di Trento in cui gli uomini di chiesa si incontreranno per decidere dell'arte e di tante altre cose della struttura e della religione cattolica perché quella crisi era stata portata dalle tesi protestanti ma soprattutto quelle tesi protestanti avevano portato gli uomini del rinascimento come Michelangelo a porsi delle domande a porsi dei dubbi perché il centro focale dell'umanesimo del rinascimento era proprio il pensiero la religione attiva e non passiva come nel medioevo nel gotico non era la religione delle icone da osservare e semplicemente da pregare di fronte a cui prostrarsi la religione attiva del rinascimento era una religione che pretendeva che l'essere umano si ponesse dei dubbi che si facesse delle domande e mai dire che nel rinascimento non ci sia stata una spiritualità o la religione assolutamente no era una religione diversa una religione che portava l'uomo a porsi delle domande a cercare delle risposte anche a non trovarle era un uomo filologico l'uomo del rinascimento dell'umanesimo era un uomo che credeva nello studio della lingua originale dei classici della Bibbia del Vangelo era un uomo che credeva nel valore del dubbio nel valore del pensiero e quindi un uomo come Michelangelo un uomo dell'umanesimo un uomo figlio del rinascimento non poteva che porsi domande non poteva che essere toccato profondamente dalle tesi protestanti non poteva che porre delle domande delle questioni ai pensatori come lui come Vittoria Colonna a se stesso nelle sue poesie e non poteva che porre questi dubbi esprimere questi dubbi in una sua opera d'arte il problema è che il problema e la nostra grande fortuna è che mise questi dubbi questo dramma questa paura questo tormento in un'opera d'arte di metri e metri di affresco abbiamo rischiato che quest'opera fosse distrutta perché ovviamente la chiesa lo amè di chiesa osservando quest'opera vedevano in un manifesto tutti i dubbi portati dal pensiero protestante tanto da giudicarla come opera quasi filo protestante e allora perché non è stata distrutta allora per fortuna nostra in tutto il mondo pensate che la Cappella Sistina è tra i luoghi del mondo d'arte più visitati in assoluto ci sono stati due motivi per cui quest'opera non è stata distrutta primo motivo era stata realizzata da Michelangelo Bonarroti e Michelangelo Bonarroti era un artista visto come divino e l'artista nel rinascimento era visto come divino era come un uomo che creava una natura nuova perché figlio di Dio e figlio anche di un talento divino quindi era un'opera di Michelangelo che doveva essere in qualche modo protetta ma il secondo motivo dal mio punto di vista è il più interessante la Cappella Sistina è una cappella privata è una cappella per gli uomini di chiesa non era una cappella pubblica e quindi gli uomini normali i credenti non sarebbero entrati in contatto così facilmente con quest'opera e non sarebbero stati sconvolti emotivamente da questi dubbi da questo da questo rumore da questo caos da questa tempesta da questa paura dilagante nell'opera questo aveva salvato ha salvato la nostra opera ha salvato il giudizio universale di Michelangelo perché fondamentalmente era un'opera fondamentalmente era un'opera per una cappella privata per gli uomini di chiesa che quindi potevano anche in qualche modo accettare il dubbio innestato in un artista divino come Michelangelo è forse dal mio punto di vista è l'opera d'arte che segna l'inizio di una nuova epoca è vero che le opere del magnerismo sono già state realizzate in questi anni perché la deposizione di Rosso Fiorentino la deposizione del Pontormo sono opere degli anni 20 del 500 e quindi antecedenti al giudizio universale di Michelangelo ma quest'opera dal mio punto di vista è proprio il simbolo del magnerismo della nascita del magnerismo si perde il punto di fuga non c'è la struttura chimerica utopica perfetta regolare simmetrica armonica della città ideale rinascimentale non c'è quel pensiero di tutto in armonia di tutto rigoroso di tutto razionale di tutto chiaro pensato deciso definito c'è il totale caos l'imprevedibilità c'è il vento c'è il vento che sarà poi uno degli elementi principali della pittura barocca c'è già tutto quello che sarà l'arte da lì a 200 anni dopo nel 1535 e 1541 Michelangelo Buonarroti fa una cesura definitiva con l'arte del rinascimento e soprattutto impone davvero il valore dell'artista del rinascimento un artista che ha delle idee ha dei dubbi ha delle domande deve e può esporle con la sua arte in realtà Michelangelo con quest'opera fa nascere il pensiero dell'artista intellettuale dell'intellettuale del pensatore non solo dell'artista che crea delle opere su commissione e che viene pagato per creare delle opere su commissione con Michelangelo Buonarroti nasce l'idea dell'artista completamente libero libero di esprimere un suo dubbio una sua paura un suo terrore perché la potenza di questo giudizio universale è che tutti hanno paura se osserviamo la scena principale diciamo il centro dell'opera Cristo è al centro con questa mano che sta per scagliare come un fulmine il giudizio il giudizio universale il giudizio imprevedibile nell'ultimo restauro che ha riportato quei colori meravigliosi di blu di azzurro quell'azzurro che Michelangelo aveva quell'azzurro del giudizio universale di Giotto a cui si ispira il giudizio universale dal punto di vista del colore di Michelangelo Buonarroti ci sono stati in questo restauro è stato scoperto che Michelangelo è stato ore giorni giorni mesi su quella mano sulla mano di Cristo perché per lui quella mano doveva essere potente e amorevole sicura e decisa è una mano che è il senso stesso del giudizio il senso stesso dell'aldilà dell'altra vita della vita eterna e tutti intorno a Cristo sono terrorizzati Maria stessa la madre di Dio la donna più pura perfetta casta l'essenza della purezza del non peccato ha paura e si ritrae e sembra difendersi proprio cercare protezione sotto al figlio tutti i santi intorno a Cristo sono terrorizzati e allora l'essere umano di fronte a quest'opera dice ma c'è qualcuno che è contento ma se Maria ha paura del giudizio irreprensibile e imprevedibile del figlio di Cristo noi esseri umani cosa dobbiamo pensare? Dov'è la nostra salvezza? Dov'è la nostra possibilità di essere salvi? È un'opera di terrore di paura ma che rappresenta il terrore la paura i dubbi di quest'epoca il momento in cui tutto cambia in cui nascerà poi l'arte della controriforma perché col concilio di Trento la chiesa creerà una nuova arte quell'arte della controriforma che tanti artisti cercheranno di realizzare tanti tranne uno in realtà questo artista che sto per citarvi sarà un artista vero della controriforma sarà l'artista più filologico del Vangelo ovvero Michelangelo Merisi detto il Caravaggio Caravaggio si ispirerà tantissimo a Michelangelo Bonarroti lo vedremo nella prossima lezione perché nella prossima lezione analizzerò la Cappella Paolina e quanto la Cappella Paolina di Michelangelo abbia ispirato il Caravaggio Caravaggio non si ispirerà a Michelangelo solo dal punto di vista iconografico ma proprio dal punto di vista del pensiero proprio dal punto di vista intellettuale perché anche Caravaggio sarà quell'artista che non lavorerà solo sotto commissione semplicemente realizzando un'opera richiesta ma prenderà l'arte come pensiero di libertà di obiettivo di vita di intellettualità di forza di pensiero di rigore di onore Caravaggio vedrà l'arte come purezza come luogo della purezza della redenzione e anche come luogo della possibilità di essere liberi e di esprimere anche le proprie paure i propri dubbi le proprie insicurezze Michelangelo espone a 65 anni su metri di affresco e di opera d'arte le paure dell'essere umano dell'epoca lui ha la possibilità lui ha il pennello ha l'arte ha il talento per esprimere sul manifesto le paure dell'essere umano e lui non si nasconde fa quest'opera realizza quest'opera per essere completamente libero nella sua arte nel suo pensiero e essere anche un tramite un mediatore per l'essere umano di fronte a Dio tanto che Michelangelo Bonarroti sta dicendo Caravaggio perché Caravaggio si ispirerà anche a questo dettaglio del giudizio universale Michelangelo Bonarroti decide di mettere il suo autoritratto qui nel giudizio universale questo è San Bartolomeo San Bartolomeo che sarà vedete qua il solito perizoma velo posto da Daniela Volterra San Bartolomeo sarà martirizzato scuogliato vivo e quindi viene rappresentato San Bartolomeo con in mano la sua pelle e sulla sua pelle viene rappresentato Michelangelo Bonarroti si autoritrae sulla pelle di morta martirizzata di San Bartolomeo come dire davanti a Dio Dio Cristo davanti a te io sono niente questo è San Bartolomeo lo vedete qua ok davanti a te Dio Cristo io sono niente sono solo pelle cadente sono solo pelle vuota in quest'opera in questo tuo ritratto di Michelangelo Bonarroti c'è proprio tutta la sua paura il suo terrore il suo modo di dire davanti a Dio e si vede anche nelle sue poesie nelle sue ultime poesie il dire forse io non ho realizzato niente per Dio nella mia vita mi sono solamente sono solo stato suddito della mia arte che è stato il mio idolo e monarca forse ho dato così tanto alla mia arte alla mia passione che mi sono dimenticato di Dio ovviamente in queste parole si percepisce la paura di Michelangelo del giudizio universale Michelangelo che aveva una spiritualità una religiosità così pura così reale così profonda e nel giudizio universale lui non porta solo le paure di un'epoca il crolli di un'epoca ma porta le paure anche sue personali le sue paure le sue tormenti la sua ricerca in un certo senso di redenzione di onore e di meraviglia spero di avervi appassionato col giudizio universale che spero che potremo approfondire ancora io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione credo oggi abbiamo parlato di una delle opere più importanti al mondo non solo non solo dal punto di vista pittorico non solo dal punto di vista pittorico iconografico ma proprio dal punto di vista emotivo sociale culturale intellettuale della cultura italiana e della storia dell'arte italiana vi ringrazio alla prossima un bacio grandissimo ciao ciao ciao